Buongiorno a tutti, ci troviamo al nuovo di Via Olimpia di Castelfrentano, è domenica 19 novembre 2017, si giocherà alle ore 11 la quinta gara di andata del campionato provinciale allievi, tra la Virtus Castelfrentano che vediamo qua con la classica divisa giallorossa, adesso i ragazzi indossano la tuta sopra, contro il River Chieti 95, c'è anche una coincidenza, questa mattina alle 10, si giocherà a Chieti anche sempre con il River Chieti 95, sempre la quinta giornata per la categoria giovanissimi, Virtus Castelfrentano, River Chieti 65. In sostanza due gare della Virtus Castelfrentano quasi in contemporanea, sposta solo un'ora, che si giocherà questa mattina, uno qua a Castelfrentano degli allievi e uno a Chieti dei giovanissimi, qua si stanno riscaldando i ragazzi del River Chieti 95. C'è il mister che dà i ordini, i dirigenti, indosseranno sicuramente la classica divisa nero-verde, e mi pare rosa-nero, non vorrei sbagliarmi. Da questo lato i nostri ragazzi giocheranno con la maglia classica giallorossa, la nuova maglia ufficiale, la prima maglia della stagione agonistica corrente 2017-2018, con lo sponsor Larry Lou Calzature Lanciano. Qua vediamo mister Gabriele Di Felice, il mister degli allievi, nonché mister dei primi calci, e nonché coordinatore tecnico della scuola calcio settore giovanile. quest'oggi la formazione è molto risicata, ci sono alcune defezioni, un portiere è malato, un altro ancora non si presenta, due ragazzi, i nostri giocatori del 2003, fanno parte della formazione che alle ore di 10 giocherà a Chieti. Qua c'è anche mister Nicola. Allora... No, no, ancora non chiama. Ah, si, ok. Mh, mh, mh.